ci eravamo lasciati una settimana fa il proprio davanti alcuni termoli perché era in procinto di fare questa questo questo giro per il molise per la salute lo chiamo soprattutto una mia missione una missione luigi cantoro per sport e salute per tutti per la cip inail che ha fatto davvero un'impresa possiamo dire eccezionale ma io questo è il primo il primo anno che ho preso l'impegno per il nostro molise perché visto che diciamo ci sono problemi a livello di sanità a livello di salute eccetera eccetera quindi ho preso questo impegno almeno lo porterò avanti i prossimi anni di sicuro sarà per altre due tre anni di sicuro cioè voglio attraversare tutti i comuni del molise quest'anno praticamente ho fatto otto tappe otte comuni che mi hanno ospitato però io chiaramente col giro ho trattato con 43 comuni o 43 comuni più la partenza e l'arrivo al comune di termoli quindi sono state interessate 44 comuni di questa di questa mia missione quindi davvero stato qualcosa di eccezionale che mi sembrava di sentire che sei stato accolto ovunque sei passato ovunque ovunque a parte l'accoglienza ma soprattutto l'ospitalità in tutti i centri in tutti i centri percorrendo in totale 600 chilometri 600 chilometri e per sorpresa per sorprese che io chiaramente non prevedevo questo per esempio alcune strade un po trafficato qualche gallerie eccetera ho trovato ho trovato anche l'assistenza dei carabinieri che io non sapevo chi ha chiamato questi carabinieri e che no dicevo prego poi mi racconti quell'episodio della macchina che ti seguivo è quello voglio allora a un certo punto una salita è molto impegnativo con le borse eccetera io ho 78 anni eh a un certo momento una macchina che mi segue e mi è seguito per parecchio tempo la macchina dietro e io davanti spiano un po la strada perché in salita in bicicletta non ti puoi tanto fermare se no dopo per ripartire è pericoloso spiano un po la strada e mi fermo mi giro dico scusa ma lei perché mi segue dici io sono il medico ti sto seguendo appunto per vedere le tue condizioni dici c'è che lei si è fermata io voglio misurare la pressione a me mi devi misurare la pressione mi auguro che la pressione era perfetta in quel momento la pressione adesso vediamo anche la reazione cioè il recupero il recupero insomma fatto sta loro ci hanno pure sanno sorpreso hanno sorpreso e dopo di che mi ha accompagnato e questo è successo nella regione di duronia di duronia dopo passata poi parecce iniziative per esempio dei comuni tipo non so torelle del sannio la vice sindaca mi ha fatto si gira tutto il paese e sopra un castello allora dico scusa ma questa strada che fa ad anello non si potrebbe chiudere al traffico due volte la settimana per due ore e fare passeggiare i cittadini e a pieto in bicicletta fare attività fisica e queste sorprese dice ma lo sa che una buona idea chiudere la sanello stanello due tre volte alla settimana e face fa circolare le persone a fare fattività fisica insomma tutte cose a a colli al volturno mi ha portato il sindaco in una piscina da strutture del del comune allora ha chiamato il responsabile di questa struttura ha detto possiamo fare qualche società noi il comune vediamo anche qualche contributi per creare una nuova società sportiva che sia di ciclismo che sia di podismo che sia qualsiasi cosa e quindi dopo di che possiamo da io poi dico oltre a dare un contributo alla nuova società il comune dovrebbe dare anche pure un euro a dare ai partecipanti di questa società perché una volta è nata una società ci sta chi si deve iscrivere a sta società deve pagare un contributo e il comune deve deve intervenire a dare un loro piccolo contributo una parte lo 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 da l'atleta diciamo atleta e una parte lo da il comune su tutte iniziative che fa bene alla salute questo è importante che fa bene alla salute